Patti Bravo Patti Bravo, paura per un incidente in vacanza come sta ora Patti Bravo, paura e tensione per la cantante. Attimi di paura per Patti Bravo. La cantante del piper è stata vittima, in quest'ultime ore, di un brutto incidente che l'ha vista protagonista mentre era in vacanza a Santa Maria di Leuca, in Puglia. Patti Bravo Come riporta il sito Tgcom24.it Patti Bravo sarebbe caduta in barca ieri sera, dopo la cena. Nicoletta Strambelli, suo vero nome all'anagrafe, è stata poi ricoverata all'ospedale di Tricasi, in provincia di Lecce. Patti Bravo Qui, all'interprete della bambola, come ha precisato sempre il sito della rete All News Mediaset, è stata accertata una lussazione della spalla destra e la frattura del trochiteomerale. Inoltre i medici hanno stabilito, per Patti Bravo, ben 25 giorni di prognosi. Ma la cantante ha mostrato tutta la sua forza nei confronti dei propri fan ai quali ha rivolto le seguenti parole. Provo a rimanere di buon umore, certamente non mi piango addosso per quanto successo. Patti Bravo, le parole dopo il terribile incidente. Così Patti Bravo non si è abbattuta di fronte alla caduta avvenuta ieri sera in barca a Santa Maria di Leuca, in Salento. La ragazza del Piper se la caverà con 25 giorni di prognosi, spalla lussata e frattura del trochiteomerale. Ciò le ha, però, impedito di continuare le proprie vacanze pugliesi. A dirlo, è la stessa Patti Bravo all'agenzia ANSA. Purtroppo il mio periodo di vacanza termina qui e adesso inizia davvero il casino. Niente isole greche, comunque poteva andare peggio è. La strambelli ha confessato, per giunta, di ritenersi fortunata dato che l'esito di quella caduta sarebbe potuto essere decisamente più drastico e complicato. Ora le aspetta un lungo periodo di riposo e di massima tranquillità. . .